Lo spettacolo che il Parlamento italiano sta offrendo agli italiani è semplicemente indecente. Di fronte alla situazione economicamente di crisi che gli italiani stanno affrontando, si parla solo di processo breve. Sembra un film dell'orrore, criminali che vanno in libertà e processi che cadono come quello dell'Ilva di Taranto, dell'Eternit e quello ancora più grave, la casa dello studente dell'Aquila.